La comunicazione è un luogo di combattimento delle nostre idee, per le nostre idee. E quindi è molto importante che sappiamo cosa vogliamo fare in politica e in democrazia. Partiamo da lì. E il prossimo giro noi dobbiamo promettere e realizzare un'azione incisiva sulla riforma della democrazia rappresentativa. Vuol dire delle cose, adesso non vado, non voglio andare nel dettaglio, ma ne abbiamo parlato, Sare ho parlato a Reggio Emilia e così via. Noi dobbiamo prima di tutto partire dalla riforma della politica. Non fatemi adesso parlare di legge elettorale. E dico solo questo. Noi abbiamo consegnato la merce, le proposte, le proposte di compromesso e migliazione, vedremo. Però per esempio a me veramente fa male che con tutta questa discussione proporzionale maggioritario e collegi, non vengono fuori per esempio due cose che noi abbiamo posto come dirimenti che parli e non interessano a nessuno. Uno è la parità di genere. Ci sono troppe e poche donne in Parlamento. Due è una norma anti-silipoti. Non puoi inventarti dei gruppi parlamentari se non sei stato indicato dagli elettori. Non ti sei presentato come gruppo agli elettori. Sono due cose da poco. No, sono due cose che ineriscono a quel famoso rapporto democrazia e società che si tratta di un po' di sanare. Quel rapporto rotto fra democrazia rappresentativa e società. Sono cose importanti.